Da oggi mi ritengo autosospeso dal partito. Queste le parole dell'assessore regionale Mauro Febbo, che esce da Forza Italia ribellandosi all'accordo tra Berlusconi, Salvini e Meloni. I tre leader della destra infatti avevano imposto che tutti e tre i partiti appoggiassero la candidatura del leghista Fabrizio Di Stefano a sindaco di Chieti, mentre Forza Italia era già pronta a sostenere insieme ad Italia Viva Bruno Di Iorio. Non condivido questa scelta che è stata fatta senza una condivisione, senza un progetto, ma soprattutto è stata fatta caricando tutto ciò che esce da un'amministrazione che non mi sembra che abbia brillato e abbia portato risultati per la città. Anzi, questa è la prima volta che nella mia storia oramai quarantennale di iscrizioni ha partito che seguo una rotta diversa. Io nella vita sono sempre stato coerente e quindi non essere coerente. Io sono un uomo di centro-destra, anzi sono un uomo di destra e rimango un uomo di destra. Vediamo gli eventi che accadranno. La mia decisione mi costa e mi costerà in termini personali, ha dichiarato Febbo, che però al momento si è solo sospeso e rimane quindi con un piede nella porta. Lo faccio per la mia città, ha proseguito l'assessore. Lega e Fratelli d'Italia stanno ricandidando i soliti nomi della scorsa amministrazione. L'unico collante, accusa Febbo, è quello della rielezione. Molti dirigenti di Forza Italia che oggi sono passati nella Lega e a Fratelli d'Italia avevamo condiviso di non ricandidare il sindaco uscente che allora era nel nuovo centro-destra. Poi ci arrivò l'input di Roma e purtroppo abbiamo seguito una strada che non ha portato i risultati che ci si aspettava. A questo punto non posso più proseguire su quella strada. La mia città ha necessità di una svolta e verso un declino socio-economico che bisogna arrestare. Stiamo portando avanti un progetto civico, quindi parliamo di uno comune, non parliamo di elezioni politiche nazionali. Un progetto civico che siamo certi, i cittadini condivideranno e siamo sicuri porterà una svolta per la mia città. Durante l'ultima consigliatura a Tiatina, infatti, nella maggioranza si era giunti ai ferri corti. Col sindaco di Primio che è passato a Fratelli d'Italia e il gruppo di Forza Italia che ha minacciato in diverse occasioni di far cadere l'amministrazione. La Lega però tira dritto. Abbiamo ceduto a Pescara, dicono gli esponenti del Carroccio. A Chieti il candidato sindaco, lo esprimiamo noi. Siamo una coalizione. La Lega, io parlo per la Lega, non ha mai creato problemi quando si trattava di appoggiare candidati di Forza Italia. Vedi ad esempio Masci a Pescara, dove anche noi rivendicavamo il nostro sindaco. Una volta che è stato deciso Masci, abbiamo corso a testa bassa affinché Masci diventasse il sindaco di Pescara. Per cui ci pareva giusto che si facesse la stessa cosa a Chieti. Adesso resta da capire in quanti seguiranno l'assessore regionale in questa battaglia interna. Una cosa però sembra certa. A Chieti il centrodestra non è più unito e questo potrebbe creare non poche frizioni anche in regione. Nel capoluogo teatino, ora i forzisti probabilmente formeranno una lista civica a sostegno di Diorio.